Recentemente ho pubblicato un tutorial dove ho fatto vedere come ottenere la coerenza dei personaggi dentro Leonardo, però ovviamente Leonardo piace a me, lo uso io, non è detto che lo usano tutti quanti, quindi voglio farvi vedere anche come potete farlo dentro da lì utilizzando una tecnica specifica. Ma prima di tuffarci nel vivo di questo tutorial vi ricordo che se volete supportare questo canale lo potete fare attraverso il pulsante grazie, quindi lasciare una piccola donazione di qualche euro, oppure potete fare un abbonamento al canale che è una donazione ricorrente tutti i mesi, di pochi euro decidete voi e tra l'altro sbloccate anche delle funzionalità extra sul canale YouTube, quindi interessante come cosa. E se invece vi interessa l'intelligenza artificiale e la volete studiare insieme a me ed altri esperti, entrate nella mia academy ia360.academy, vi lascio il link qui sotto. Allora, come possiamo avere la coerenza dei personaggi? Cioè dei personaggi che rimangono uguali ma magari cambiano solo nelle situazioni. Allora, questa tecnica è fatta in tre passaggi, mettiamolo così, quattro, vai, facciamo così, quattro passaggi, alcuni passaggi possono essere facoltativi, però ve lo faccio vedere step by step. Allora, il primo passaggio è che usiamo un trucco facendoci creare da CGPT un'immagine con dentro più situazioni, quindi invece di dirgli di creare più immagini, perché la si perde da lì a volte, gli facciamo creare un'immagine con tutto dentro. Come lo facciamo? Attraverso lo sticker sheet, ok? È un po' il trucco che si usa in questi casi. Queste tecniche che mi sono inventate ieri, lo sapete, leggo cose in giro, sperimento, eccetera, eccetera, e poi ve le metto insieme, ve le esemplifico e ve le porto qui sul canale. Quindi gli diciamo, crea uno sticker sheet. Lo sticker sheet praticamente è il foglio con gli adesivi, ok? Per capirci. Quando eravate ragazzi e dite, ma ho comprato uno dei fogli adesivi con un sacco di adesivi sopra, quindi di un gatto arrabbiato in varie pose e attività. Dicendoglielo in questo modo, lui non mi fa varie immagini, me ne fa una sola, ma sopra ci sono più adesivi. E quindi risolviamo il problema di averlo coerente, no? Di avere sempre lo stesso gatto arrabbiato in questo caso. Quindi vediamo, c'è GPT, cosa ci tira fuori. Allora, eccolo qua il nostro sticker sheet. Perfetto, esattamente quello che volevo farvi vedere. Vedete, quindi lo stesso identico personaggio in varie pose e situazioni. Abbiamo già fregato il sistema. E ora ci arriviamo un po' alla volta. Che facciamo? Nel secondo step gli chiediamo di mettere un po' di dettagli. Quindi gli diciamo, me lo rifai un po' più dettagliato. Quindi arriviamo al risultato finale facendovi fare un passettino per volta. Ricordatevi che questa cosa è fondamentale. A volte vedo delle persone che partono da un prompt e poi nel secondo fanno 200 modifiche. Non funziona mai questa cosa. Una modifica per volta quando lavoriamo sulle immagini e manteniamo la coerenza lungo questo percorso. Quindi qua gli chiedo solo di aggiungere qualche dettaglio in più, prima di arrivare magari a una cosa un pochino più fotorealistica. Vedete anche qui, il gatto è esattamente lo stesso. Cosa faccio? E gli dico, facciamo questo passaggio da sticker sheet. Quindi diciamo da questo foglio con gli adesivi. Lo facciamo invece in snapshot sheet. Questo è difficilissimo da pronunciare. Cioè come se fossero quindi delle, diciamo così, delle fotografie. Mettiamola così, una raccolta di fotografie. Quindi gli dico, mantieni lo stesso livello di dettaglio, qualità e coerenza delle immagini e rifarmelo come se fosse uno snapshot sheet. Complicatissimo da dire in inglese. E quindi adesso ci fa questa trasposizione e diventa un po' più, no? Verso il fotorealismo. Ovviamente ci potevamo fermare qua. Se ci andava bene ci potevamo fermare qua. Vi faccio vedere che possiamo andare avanti in vari passaggi. E adesso ce l'abbiamo invece in uno stile che non è più quello dell'adesivo, no? Abbiamo queste mini situazioni che possiamo utilizzare per comporre, che ne so, un fumetto perché dobbiamo mettere sulle nostre magliette, perché dobbiamo essere su un altro sito web, su un libro che stiamo stampando, sui post per i social e così via. E questa cosa possiamo andare avanti all'infinito. Cioè possiamo cambiare le situazioni quanto vogliamo noi. Quindi potremmo dire, per esempio, ora mantieni... Aspetta, facciamolo così, me lo copio da qua. E rifammelo con stile fotorealistico, ok? Quindi facciamo un ulteriore step. Non è necessario. Voi potete farlo uguale e dire però il gatto adesso deve essere più rosso. Oppure deve avere, che ne so, due code e così via, no? Il senso che voglio far vedere è che facciamo una modifica per volta durante il percorso e riusciamo a mantenerlo coerente. Quindi siamo partiti da questo, coerenza. Siamo partiti da questo, coerenza. Siamo partiti da questo, coerenza. E qua abbiamo proprio le scenette quotidiane del nostro gatto. E adesso abbiamo la versione fotorealistica, mettiamola così. Non è proprio fotorealistica, sembra più diciamo una roba un po' da cartone 3D, però l'abbiamo trasformato in una roba tridimensionale, anche qui mantenendo la coerenza al 100%. Questa cosa ovviamente la potete utilizzare come volete voi. Fra tutti gli esempi che volete voi, ve la modificate, ve la trasformate. Questo è come punto di partenza che voglio dare, come sempre, no? Darvi la canna da pesca e insegnarvi a pescare, non vendervi il pesce, per usare una metafora abusatissima. Se vi è piaciuta questa cosa qui, nell'Academy IA360 trovate altre 5 tecniche che potete utilizzare con da lì per mantenere la coerenza dei personaggi nelle varie prove che fate, nei vari test che fate. Questa è una, ce ne sono tantissime, e lì ho fatto un altro tutorial dove ci sono 5 tecniche. Andate su ia360.academy se volete saperne di più. Adesso invece per concludere vi lascio a video il tutorial dettagliato di come potete fare questa cosa anche con Leonardo. Quindi se non l'avete visto andate a vedere questo su Leonardo, perché anche quello è uno strumento super interessante che io adoro per la generazione delle immagini.